Benvenuti a tutti, io sono Renato Pappadà, conosciuto come Slantart sul sito animicrick.it animicrick.it è probabilmente il principale sito per animazione, filmetto, giapponese, cultura giapponese d'Italia e oggi siamo qui a presentare il secondo dei nostri incontri qui a Nova Ludica a Palma Nova incentrato sulla storia della Garnix. Allora, questa foto, per iniziare, è il gruppo originario che ha fondato la Garnix. Ora, non chiedetemi chi è chi perché non lo so riconoscere, però nel 1986 è stata fatta questa foto un anno dopo la fondazione della Garnix. Il Decon 3. Il Decon 3 è dove è iniziato tutto. C'è una convention di fantascienza in Giappone chiamata Neon Science Fiction Taikai che è una convention come le fiere italiane, però incentrata sulla fantascienza in cui viene dato il famoso premio SEI, una delle migliori opere della fantascienza di quell'anno in Giappone e all'estero e ci sono stand, ci sono proiezioni, insomma è un haven per tutti gli appassionati di fantascienza giapponesi. La cosa interessante è che l'organizzazione viene affidata ai studenti universitari del luogo e questo festival viene organizzato in una città diversa ogni anno. Tipo a Tokyo c'è il Tokon, a Osaka c'è il Daikon, a Nagoya c'è il Mekon. Il Daikon 3 significa che è la terza convention organizzata a Osaka nel 1981 e l'organizzazione venne affidata a Yasumiko Taken e Toshio Kada, due studenti universitari del luogo molto appassionati di fantascienza. La cosa importante di questo Daikon 3 è che per la prima volta venne organizzato un corto di animazione come presentazione un po' come sono le Olimpiadi quando c'è la prima giornata con tutti gli spettacoli, una cosa del genere. e se ora mandi il primo video ve lo faccio vedere e poi vi spiego brevemente com'è nato. Ok, puoi tornare all'immagine di prima. Allora questo corto che ti ho appena visto venne realizzato da 5 persone, i due che ho citato prima Okada e Takeda e altri 3 tra cui il noto videaki Anno insieme a Neverukiyamaga e Takami Kai. Questi 3 erano tutti studenti universitari della Facoltà di Arte di Osaka, si incontrarono in un caffè, si videro le proprie capacità nell'animazione e si divertirono a creare questo video come avete visto e si sono divertiti a mettere tutte le citazioni a opere fantascientifiche che conoscevano, la protagonista Loli ispirata a Apollo e a Nacos OS e quant'altro. Il corto fu un grandissimo successo sia di pubblico che di critica. Tutte le riviste del settore la elogiarono. La cosa particolare è che venne realizzata senza soldi, non avevano nemmeno i soldi per comprare i celli, disegnare, quindi compravano della carta normale con i colori che sbavavano che riuscivano a realizzare un corto del genere. Loro si sono divertiti, si è diventata tanto che inizierono a realizzare dei live action, dei live action somi film con un altro in carne ed ossa, espirati ai kokusatsu giapponesi. Vai avanti con l'immagine. Ancora. Ecco questo ad esempio è uno di Taker, uno di cinque, che ha fatto il protagonista di un live action. Vai avanti ancora. E questo è un altro action ispirato a Ultraman e altre altre cose. Vai avanti. Ecco. E la cosa importante che ci porta è il Daikon 4 tuttavia. Due anni dopo il Daikon 3, la manifestazione tornò di nuovo a Osaka e avevamo totalmente successo quel corto che vennero chiamati lo stesso gruppo a organizzare la manifestazione e decisero di creare un nuovo corto di animazione. Tuttavia, a differenza di quello del Daikon 3, la situazione era molto cambiata. Grazie alla vendita di gadget e del video del Daikon 3 avevano tentato diversi soldi che gli permisero di affittare uno studio vero e proprio e comprare il materiale decente. In più, i Ryuki Yamaha vennero chiamati dallo studio 2 per realizzare le animazioni di Macross, una delle opere più importanti degli anni 80. quindi avevano ottenuto esperienza sufficiente a migliorare la loro qualità dell'animazione. In più, durante la lavorazione di Macross si unirono Sabamot e Maeda, altri due importanti membri dello studio, che aiutarono a realizzare un corto ancora migliore, che ora vediamo, è più bello del primo. mando al secondo video. Come vedete, la qualità delle animazioni, colori e tutto, è stata molto superiore a quella del Daikon 3, grazie alle innovazioni tecniche, ai maggiori soldi che avevano e al personale a compia esperienza. Il Daikon 4 fu un successore enorme, piacque a tutti, a pubblico, critica, molti avrebbero rimasero sconvolti. Ok, prossima immagine. Nel frattempo, questo gruppo che aveva fondato la Daikon Film per fare i propri questi concorti, aveva fondato anche un negozio chiamato General Product, in cui vendere gadget di fantascienza e gadget anche legati ai loro prodotti. va avanti con le immagini. Questa, ad esempio, è la vista del Daikon 3 e nella prossima immagine c'è quella del Daikon 4. Si erano divertiti tantissimo a fare questi corti e quindi decisero che volevano proseguire a fare altri anime. Quindi, prossima immagine. Andarono da Bandai a chiedere finanziamento di 40 milioni di iene per realizzare un OAV, Original Video Animation, ovvero un prodotto realizzato per essere venduto direttamente in un video, su Gundam. Vendevano dei modellini di Gundam con due personaggi che hanno creato loro e volevano realizzare un OAV su questo. Le cose non andarono come pensavano, anziché ricevere 40 milioni per un OAV, ricevettero 800 milioni e richiesero però un film per il cinema. Loro accettarono, tuttavia questo richiede un po' di preparazione. Non potevano realizzarlo con la Daikon Film, quindi dovessero fondare una vera e propria agenzia di produzione animata. Nacque quindi, nel 1984, la Gainax. Il nome della Gainax è molto semplice. Gainax significa grande. La X è stata aggiunta perché era figa e perché faceva sembrare il nome come un robo gigante, che tanto piacevano a loro. E quindi iniziò la realizzazione di Leale Dionne Abise, che è uno dei film più famosi tra gli appassionati per essere stato uno dei più grandi flop della storia dell'animazione giapponese. E' ricordato come uno dei distruttivi per la Bandai, che si ritrovò quasi in crisi a causa delle parti del film, che furono neanche la metà di quello che costò il film. Anche se, da essere sinceri, nelle interviste agli realizzatori dicono che non fu così tragica la cosa. In ogni caso, la cosa importante di questo film è che tutti ora conoscevano questo gruppetto di persone. Anno, Kada, Takeda, erano stati famosi al di fuori del gruppetto degli appassionati che avevano visto il Dacon 3 e 4. E questo ci porta a un'altra opera molto famosa, Gun Buster. Allora, dopo Onne Abise, avremmo persevuto dei lavori minori a cui realizzare tipo degli extra per i dubbi di Appleseed. Tuttavia, sempre Bandai, nonostante il flop di Onne Abise, fece loro una proposta molto interessante. Se fossero stati in grado di realizzare una serie per l'ombito, in grado di vendere 10.000 coppie, loro l'avrebbero prodotta. Il risultato è top onerae, punta al top, Gun Buster. Anche qua ci furono diversi problemi, in quanto i membri della Galaxia riuscivano ad accordarsi su cosa fare. Proprio non doveva essere un'opera seria, perché qualcuno è un'opera con robot e belle ragazze di invertimento. Finché non arrivò i di Aki Anno, che è preso tutto nelle sue mani. Cancellò la sceneggiatura già scritta da Ryamaga e rilavorò anche il soggetto originale. L'unica cosa che mi sono aiutata fu il primo episodio. Ecco, cosa importante di Gun Buster è che nel primo episodio è quasi interamente copiato da Esonerae, che in Italia ha visto come geni latennista. Tanto che i personaggi sono che si può fare un parallelismo uno o uno tra i personaggi principali. Questa è la protagonista che non ha nessuna abilità particolare e ciò nonostante si ritrova a essere Esonerae e è membro del club di tennis in Gun Buster, uno dei piloti ufficiali della scuola a cui partecipa. Questa è la senpai, la Ojo Sama, che è il personaggio, il mentore della protagonista, quindi la protagonista ambisce che ha lo stesso ruolo in entrambe le serie. Questa è l'amica del cuore, l'amica d'infanzia che non ha nessuna importanza della storia ma sostiene la protagonista. Anche qui c'è il parallelismo uno o uno. Questo è l'allenatore che prende sotto la sua ala la protagonista, che vede qualcosa in lei nonostante fosse l'ultima delle nove linee. E infine questa è la rivale che viene accantonata, che perde il suo posto da titolare in favore della protagonista. Come vedete c'è proprio il parallelismo uno o uno dei personaggi. Questo parallelismo si perde poi dal secondo episodio, quello in cui inizio a lavorare veramente hanno, perché Gun Buster prende una strada poi tutta sua. Guardate per l'immagine. Gun Buster fu... anche lui diede dei problemi di soldi, cioè vendette molto ma a causa di idea che hanno sforarono il budget in quanto decide di realizzare l'ultimo episodio interamente in bianco e nero. A differenza di quanto si può pensare costava molto di più realizzare interamente in bianco e nero che a colori. Quindi si trovarono di nuovo in... con problemi di budget. E poi arrivò questa, questo che non la conoscete, Princess Maker, è un videogioco. Infatti dopo la finita di Gun Buster, la Gun X inizia a realizzare dei videogiochi, un po' su un volore europeo tipo Gun Buster, un po' sui soggetti originali. Princess Maker è realizzata Tazakami Akai, finito i più grandi successi dei video giochi giapponesi degli anni 90. Per avanti con l'immagine. In pratica è semplicissimo, hai una figlia che devi vestire, devi partecipare con corsi di bellezza e in base di parlarci. In base a quello che fai, puoi trovare 74 lavori, da quelli belli come ministro o, come dire, sacerdotessa, a quelli più brutti come costituta o delinquente. E la particolare ragazza di questo video gioco è che abbia un successo enorme e piaceva guadagnare tantissimo la Gainax. Quindi si iniziavano a creare due fazioni, tra della Gainax. Quelli che volevano fare anime e quelli che dicevano, ma perché noi facciamo video giochi che non lo guadagniamo di più. E questo si porta a Nadia, che è probabilmente l'opera più importante a livello produttivo del pre-evangelion della Gainax. Allora, stavano iniziando ad esserci dei problemi interni nella direzione della Gainax, ovvero c'era Toshio Kara, uno di quelli che aveva fatto il Daikon 3, che era stato non nato presidente della fondazione della Gainax. E poi c'era un altro, Iwa Kimwe, che era quello che era stato preso nella Gainax dopo la sua esperienza pregressa. Aveva lavorato su Tetsuka Production e quindi era l'unico che aveva esperienza, l'avevano preso come consulente, eccetera. Questi due litigarono fortemente per chi doveva essere a capo della Gainax. Alla fine vinse Okada mettendo con il presidente un suo amico, Salva Mura. Tuttavia, a Iwa questo non piacque e si vendicò, diciamo. In quel periodo, GroupTac, ovvero una ditta di produzione di animazione, contattò la Gainax per proporre la realizzazione di un anime che sarebbe andato in TV su NHK per un anno. Iwa tenne nascosto la cosa alla Gainax e andò di nascosto all'incontro con GroupTac e NHK insieme a Sadamoto e Maera, che realizzarono rispettivamente una prova del character design, ovvero del design dei personaggi e dello scenario di base. Ovviamente questo può supporre la cosa bene scoperta abbastanza presto e però ci si rese conto, discutendo all'interno della Gainax, che non c'erano soldi per realizzare un'opera del genere, sarebbe stata la fine della Gainax. Purtroppo, però, GroupTac aveva già dato inizio ai preparativi, quindi la Gainax non si poteva tirare indietro, ma anche questo è che Inue, che rappresentava la Gainax in questi incontri, l'aveva accettato. Quindi la Gainax si trovò un po' costretta a fare quest'opera, a condizione che Inue venisse mandato via, infatti Inue lasciò la Gainax per il momento. Namia venne realizzato, anche bene, ottenne un grande successo e fece conoscere la Gainax a tutto il Giappone, perché fu la prima volta che un'opera Gainax mi era trasmessa in tv, in chiaro, in un orario docente e per quasi un anno. Il problema è che lasciò le casse della Gainax in rosso di 80 milioni di yen e infatti venne tolta anche dai crediti di alcune delle animazioni. Questo fu un problema perché quando venne realizzato il film di Nadia, Il mistero di Fuzzi, GroupTac chiamò ancora la Gainax e gli offrì 50 milioni di yen per realizzarlo. La Gainax tentò di fare, di realizzarlo, fece i disegni, hanno preparato la sceneggiatura, tuttavia si vese al punto che non aveva le forze e quindi riflettò a quel punto GroupTac e gli chiese ok, facciaci i soldi, e noi li abbiamo più, li abbiamo spesi. Fu solamente col successo enorme di Evangelion che riuscirono a risarcire questo debito. In ogni caso, a questo punto, gli 80 milioni di debito li vennero 30, quindi un po' meglio. Però la Gainax si trova costretta a proseguire con l'opera di animazione per salvare questi debiti. E questo ci porta a quella parte più importante della conferenza e che poi sarà anche la proiezione finale, Evangelion. Allora, prima di Evangelion però, ci sono molti problemi interni della Gainax. Toshio Okada, il presidente, la lascia perché, certo, non fa più niente, prende lo stipendio e non fa niente. Stamente tutto il giorno ha sentito un poltrono e non fa niente, quindi viene cacciato in pratica. Takami Akai, che avrà realizzato Princess Maker nel videogioco di prima, se ne va anche lui perché vuole realizzare Princess Maker 3 e la Gainax non può farlo. Quindi fondano la sua ditta di realizzare videogiochi. In più, non hanno fisicamente soldi per provare gli stipendi dei dipendenti. Quindi metà della Gainax se ne va, anche gente che era insieme ai tempi del Decor 3 se ne va per trovare altro lavoro. Chi resta deve fare dei morbi sacrifici tipo Takeda, molti fondatori, manda la moglie dai genitori in un'altra città e vive in un dormitorio insieme agli altri. Insomma, non è un periodo bello e si pensa anche di iniziare ad abbandonare tutto. Si decide quindi di provare con un'ultima opera, vedere se avrebbe successo, avrà successo e nel caso continuare. Quest'opera sarà Evangelion, quindi potete immaginare com'è andata a finire. Vai avanti con l'immagine. Allora, Evangelion ha avuto talmente tanti problemi di produzione che come probabilmente nessun'altra opera animata della storia. Per prima cosa, la sceneggiatura, la storia, venne cambiata almeno cinque o sei volte prima di arrivare alla fase finale. All'inizio, Hannu voleva realizzare un'opera che superasse la cosa satisfazionale Yamato e Gundam, ma cambiò idea del resto. Originariamente doveva essere una ragazza, il protagonista, ma Sadamato si oppose e disse hai già fatto Nadi, hai già fatto Noriko, basta. Poi un robottone non può essere chiotato da una donna, quindi facciamo un uomo. La versione originale prevedeva l'esistenza di due razze, due razze aliene primordiali. Una che aveva costruito Lieva e che ne era stata distrutta. La seconda che aveva creato la lancia di Longinus per assemblare Lieva e gli angeli per evitare che qualcuno risvegliasse Lieva. Come potete vedere non c'entra niente con le vangheie che conosciamo, quindi fu cambiata in corso. Nel 1993 ci fu un incontro tra l'Aga di Melinda Garix e gli sponsor che speravano avrebbero potuto finanziare la storia. E gli venne fornito a questi sponsor un libricino come questo. Questo, chiamato Evangelion Proposal, è un libricino di 20-30 pagine pubblicato nel 1998 che riporta esattamente quello che era stato proposto agli sponsor nel 1993. Ora manda avanti abbastanza favelocemente queste immagini. Qua c'erano, ad esempio, alcuni disegni sugli Lieva, gli angeli, eccetera, cosa doveva raccontare la storia e i personaggi. E manda avanti pure uno o due secondi. Questo era, diciamo, l'originale dei personaggi. Ecco, fermo qua un attimo. Anche qua c'erano molte differenze rispetto ad adesso. Ad esempio, l'Ebisoglio 24 prevedeva una battaglia contro 12 angeli discesi dalla Luna dopo che questi avevano vaporizzato l'intero Nord America e l'Eva 06. Come potete vedere, è stato cambiato ulteriormente. Voi pure avanti. E qua ci sono i bari, ad esempio, gli angeli. Ecco, fermo. Come potete vedere, i due angeli sotto non sono mai stati realizzati per la serie. E avanti. Ok, fermo qui. Un'altra cosa molto importante nella definizione delle bangerie originale in realtà c'entra ben poco con l'animazione. Il 20 marzo 1995 il Giappone venne sconvolto dall'attentato terroristico alla metropolitana di Tokyo dalla setta religiosa Aoshinbikyo che sparsa il gas saline all'entrata di Shinju, come sempre. non c'entra niente con l'Evangelion. Tuttavia, ci fu un grande clamore mediatico perché c'era la Aoshinbikyo che ha realizzato degli operi di animazione giapponese e c'era molta somiglianza ad esempio con alcune storie della Ganex. Soprattutto, la storia originale di Mangeion aveva molte similitudini sia con l'assetta Aoshinbikyo sia con l'attentato al gas saline. Quindi, Anno da un lato si trovava un po' costretto a modificare la storia. Dall'altro, riteneva che un'eccessiva aderenza reale limitasse il potere immaginistico dell'animazione. Quindi, su Malgraff si trovava nuovamente a modificare la storia. Tuttavia, eravamo già a marzo del 95 e Vangelion iniziò a ottobre del 95 o settembre del 95 quindi ci fu molto poco tempo per cambiare. In più, Anno è un perfezionista. Lui modificava gli storyboard continuamente, andava a ricadere quegli episodi vecchi e questo portò molti problemi a chi doveva effettivamente disegnare perché se tu lo storyboard lo fai un mese prima della trasmissione dai un mese di tempo per disegnarlo, colorarlo, doppiarlo eccetera. Se lo mandi due settimane prima, causa un inferno per i disegnatori. Infatti, tutti hanno detto che la seconda parte di Vangelion, dove fosse stato produttivo, fu un inferno. Sia per il tempo, come abbiamo già detto, sia per i soldi perché naturalmente la gang ha avuto problemi di soldi fin dalla sua nascita, sia per problemi di censura. Infatti, la libertà creativa di Anno venne limitata per due motivi. Prima di tutto, King Records, che aveva prodotto la serie, aveva posto due condizioni per dare libertà ad Anno. Prima di non creare niente di Evangelion con altri produttori, ma soprattutto non doveva morire nessun children. Gli adulti possono morire, i bambini no. E' per questo, ad esempio, che Toji non muore, ma perde solo una gamba. E l'altro fu la PTA, la Parents Teacher Association, un'associazione che con abuso di notazione potremmo definire simile al nostro Moiger, che si lamentò per l'eccessiva violenza di alcune scene, mi pare dell'episodio in cui viene distrutto l'eva di Toji, e quindi fu impossibilitato a usare scene troppo violente o troppo forti. Un altro problema fu la psiche di Deakianno, che è molto molto malato. Infatti, come vediamo, ho fatto il parallelo tra Deakianno e Shinji Ikari, perché Shinji Ikari è esattamente Deakianno come era al momento della produzione di Evangelion. Tutti i suoi disagi esistenziali, la sua paura e il suo desiderio di fuggire sono stati riversati in Shinji. Tanto che, ad esempio, in un incontro dello staff, si stava discutendo sull'episodio e dissero No, qua Shinji si comporta in modo troppo mascolino, Deakianno non farebbe mai una cosa del genere. Ma, più in generale, Evangelion è stato recensito, criticato, elogiato ovunque per infiniti motivi. C'è chi parla della calabala, che della psicologia, che dei profondi significati che ha. La verità è che Evangelion non ha alcun significato. Non ha fatto quest'opera per il pubblico, per altri. Non ha voluto trasmettere niente. E hanno fatto Evangelion per se stesso. Evangelion è l'idea che ha uno stesso, la sua vita, la sua personalità, la sua psicologia. Lo ha riversato tutto se stesso in quest'opera. Tanto che, alla fine della produzione, era vuoto. Non c'era più niente dentro di se stesso. Era un cuscio vuoto. Tanto che entrò in una profonda depressione, doveva farci vedere uno psichiatra. Ritento anche il suicidio famoso, la Negato, in cui si mise sul tetto della Granax per vedere se si sarebbe buttato o meno di giù. Alla prossima immagine. Altra cosa importante per il rapporto anno e Evangelion. Bisogna citare un libro. A Itogen sono fascismo. Il fascismo dell'amore e della fantasia. Un'opera di Ryu Murakami. Secondo anno c'è un profondo parallelismo tra lui e Murakami, perché sono entrambi dei falliti, degli uomini senza valore, dei due ragazzi col complesso di Edipo. Infatti, secondo anno, quel romanzo di Murakami è pieno di complesso di Edipo. Il complesso di Edipo è quello che uccide tuo padre per farti tua madre. Come potete vedere a questa immagine, l'idea che hanno ha voluto creare Evangelion in un complesso di Edipo su più livelli. Shinji cerca sua madre ma è in contraposizione col padre. Il problema è che non c'è una sola madre in Evangelion. C'è la madre biologica che è diventata roba gigante, ma c'è anche la madre della stessa età anche lei che ha il legame col padre biologico. Ma in più non c'è solo il padre biologico come esiste Ada, il padre degli angeli che è in contraposizione con Ray e con Eva. Quindi, praticamente, hanno voluto fare un complesso di Edipo su più livelli. per farvi capire quanto è malato hanno. Abbiamo detto che Shinji Ikari è Idea Kianno. Idea Kianno è visto molto anche altri personaggi come Asuka e Misato. Ci sono un pari di anediti interessanti su Misato, perché... Allora, quella centrale riconoscete che è Usagi Zucchino la... Misato è quello che Anno crede che Usagi sarebbe diventata 29 anni, da un punto di vista grafico. Da un punto di vista caratteriale è ispirata a Noriko Idaka. Noriko Idaka è la doppiatrice di Noriko, di The Gunbuster, e Jean di Nadia, nonché il primo amore di De Akianno. In pratica De Akianno si era innamorato e alla fine di Nadia si era dichiarato dicendo che non era l'affetto, la... non solo era già sposata, ma era sposata come un produttore di anime. In ogni caso, Misato è caratterialmente Noriko Idaka e... graficamente... è il secondo nome. Vai a tutti. L'altro personaggio fondamentale è Raya Yanami. Idea Kianno non è mai riuscito a capire Raya Yanami. So che sembra strana dalla rivista della serie, però è così. E non riusciva a gestire ma sapeva come fare. Ad esempio, questa scena in cui Raya sorride e... dopo questa scena non pensava che Raya fosse finita, è inutile, non si messe più a niente. Perché nel momento in cui Singi e Raya riscono a comunicare sinceramente non c'era più significato portare avanti Raya. Tanto che se ne dimenticò in un episodio non compare mai Raya proprio perché non se l'ha dimenticato la sua esistenza. E... tuttavia tempo dopo del episodio 14 si trova in difficoltà perché non si realizzare il monologo. gli venne suggerito di leggersi un libro sulle malattie mentali perché Raya, l'idea di Anno, doveva essere una schizofrenica. Anno si lesse questo libro trovò una poesia scritta da un pazzo che lo colpi tantissimo nel profondo. tanto che riuscire a scrivere il malavolo di reddito 14 in un minuto. Il problema è che poi questa deriva proseguitamente tanto che finì come detto in depressione. Eh... prossima immagine. per chiudere l'importante è il design degli angeli. Come vedete qua c'è una palla, una sfera di DNA, un virus informatico e una doppia piramide. Cioè non sono i classici nemici che uno vede non è il proprio gigante di Banda o il mostro gigante di Mazinga. Questo, anche questo, è colpa di Anno della sua psiche malata in quanto Anno l'indeterminatezza delle forme degli angeli rispetta l'incapacità di Anno di capire la società e il suo ideale di nemico è un nemico indefinito in forme che sai che esiste ma non riesce a comprendere. così come lui non comprendeva la società più in generale secondo Anno tutta la sua generazione a difesa della generazione presente che aveva un nemico politico e straniero avvertiva un'ansia una solitudine interna che non riusciva a capire sapeva sentiva che c'era un nemico ma non riusciva a identificarlo e questo si è risperchiato nei disani degli angeli infatti anche nella serie si sente i personaggi che dicono ma che stiamo combattendo cosa sono questi angeli perché li affrontiamo è tutta colpa di Anno ora con questo chiuderei questa parte di conferenza con un dialogo tra Miyazaki e Anno Miyazaki aveva fatto i complimenti ad Anno per la serie di Evangelion perché l'aveva reso importante una voce importante nella nuova nel mondo dell'azione tuttavia gli disse guarda adesso liberati dal fantasma di Evangelion non puoi essere tra dieci o vent'anni quell'anno che ha fatto Evangelion Anno rispose se si lo so non preoccuparti lo spirito maligno se ne è già andato lo sto lavorando su uno shoujo che sarebbe stata l'istituzione di due lei ora però quest'anno c'è il ventesimo anniversario di Evangelion sappiamo che Anno non si è mai liberato da questo fantasma nel 2006 ha annunciato il reboot di Evangelion per un remake cinematografico della serie e ancora adesso a vent'anni sta lavorando al quarto film quindi ora vi lascio la proiezione di Evangelion 1.11 di You Are Not On che è proprio questa nuova versione di Evangelion che Anno sta realizzando